Grazie a Michele Valdi, grazie a tutto l'equipaggio, a Sebastien Kohl è il timoniere, il ragazzo francese sulla vostra, guardate l'equipaggio a sinistra, uno dei più forti timonieri di Match Race in Europa, dunque un equipaggio che merita il vostro tifo anche per la presenza di italiani a bordo. Thank you team Siri.